Ciao, sono Alberto Lori, ma ti chiederai chi sono? Ebbene, a prescindere forse che probabilmente la mia voce l'avrai ascoltata in qualche programma televisivo, forse ormai datato perché chiaramente sono stata la voce di Ultimo Minuto, di Sfide, di Mixer, della storia Siamo Noi, di Super Quark. Io mi trovo in questo canale YouTube Alberto Lori Quantum Academy perché fondamentalmente io sono un giornalista, sono un divulgatore scientifico, o meglio un semplificatore. Cerco in qualche modo di semplificare determinati concetti che sono ovviamente complicati e difficili per portarli al grande pubblico. Quindi i miei video che riguardano vari argomenti, da quelli strettamente scientifici a quelli diciamo di misteri, di archeologia, di storia, di psicologia o di filosofia, che ovviamente sono tutti concatenati perché si riferiscono a quella che è la mia materia di riferimento, che è la psico-neuroquantistica o per semplificare addirittura meta-quantistica, è importante perché sono utili dal punto di vista filosofico, psicologico, per la crescita personale, per superare determinate problematiche che riguardano l'individuo, ma vada bene, quello che io diffondo non sono verità assolute, sono verità in quanto forse appartengono direttamente anche a te e all'interno di te, degli inviti alla riflessione. Voglio che la gente si risvegli e cominci realmente a ragionare con la propria testa, a farsi delle domande e a darsi delle risposte. Grazie, sei occupato il tuo tempo. Ciao.